Ben ritornati nella serie della failcraft paurosa Oggi siamo davanti a un bivio Vi ho chiesto nei commenti e ci hanno risposto ovviamente ragazzi come sempre grazie Se la scorsa volta noi con quello che abbiamo fatto e cioè il fatto che io toccassi quella maschera posseduta Ci fossimo schierati dalla parte della ragazzina Oppure se fossimo ancora nel limbo di dover decidere se stiamo dalla parte di Aerobrine o di lei Loro cosa hanno detto? Perché non è che si capiva proprio bene Era la stessa cosa che supponevate anche voi Quindi ci siamo secondo loro schierati dalla parte della ragazza Perché un po' ci pensavo anch'io Cliccando quella maschera indipendentemente dalla reazione paurosa che ha avuto lei dopo Io ho accettato in qualche modo un patto che lei ci ha proposto Ma alla fine tu volevi comunque schierarmi con lei? Io volevo comunque schierarmi con lei anche nei commenti volevano che noi ci schierassimo dalla parte sua Quindi suppongo che effettivamente abbiamo fatto la scelta giusta Qua dentro sta piramide me l'immaginavo c'è qualcosa È un messaggio Ed è di Aerobrine ovviamente Quando vediamo Torce di Redstone anche la piramide è un suo simbolo È sempre un suo messaggio In questo caso ci sta dicendo che non dobbiamo proseguire Quindi suppongo che lui ci stia invitando un'ulteriore volta a evitare di stare dalla parte di lei Ormai ci sta dando un'ultima chance secondo lui C'è anche un messaggio Cos'è quella cosa che hai in mano? Ci sono delle cose da raccogliere Una è questa daga Si chiama Nightmare Dagger E infligge Wither Quindi suppongo sia un'arma discreta Ma gli stessi colori di lei Di lei Sembra sua Sembra sua Esatto A me sta qua vicino Ma si abbassa la salita mentale Come è possibile? Normale perché ci sono un sacco di corpi Ossi Lion 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 Oh ti giuro no No ti giuro questa cosa qua è stata raccappicciante ragazzi Lion ce l'avevano circondato Ma che cos'erano? I cavolo erano? Avevano la stessa maschera di lei Quella del culto di lei Beh allora ci hanno fatto una cosa buona Se noi ora siamo dalla parte di lei C'ha Aiutato Cos'era? Lion Guarda quel messaggio Non Ah Non posso sempre salvarvi Allora mi sa Che chi ci ha spostato Non è stata lei Ma è stato Aerobrine Qua fuori c'era Aerobrine Qua fuori l'ho visto L'ho intravisto il nome anch'io Intravisto il nome anch'io Quindi lui Ci sta Lui è ancora convinto Che noi non stiamo dalla parte di lei E ci ha tirato via da quel momento Con i cultisti di lei Pensando di starci salvando In realtà Secondo me non ci ha salvato Perché io credo che Parliamoci chiaro Primo o poi Almeno una volta Dovremmo capire se questi eventi Ci faranno effettivamente Del male o no Aerobrine ci ha scritto Anche che ci sta guardando Eh ragazzi Qua ci sono dei maiali Mangled Ma perché noi ci siamo schierati? Ma i cultisti comunque Ci volevano attaccare No no Guarda che secondo me Non ci volevano attaccare Secondo me ci stavano Tipo facendo una cerimonia Un culto Una cosa di iniziazione Magari ci volevano portare Da qualche parte Magari darci qualcosa Può essere Aerobrine purtroppo Ha interrotto questa cosa Ho trovato un altro disco Da ascoltare Questo è il numero 21 Teniamolo a mente Magari tra poco Anche sta roba qua È nuova Mai vista La Fieri Orange Ghost Light Non so cosa sia Però non mi sembra So come qui dell'altra volta Lion non mi sa che è quello Attento Non ti avvicinerà Occhio ragà Occhio Occhio Quanti sono Mamma mia Quanto sono brutti Ricordatevi che questi mostri Li crea lei Ora Va bene la curiosità Di vedere cosa succede Se stiamo dalla sua parte Ma tenete presente Che lei è un mostro Perché queste cose Che sta facendo Sono brutte tanto I cosi sono corrotti E non sono buoni In ogni caso Che siamo dalla parte di lei O no Beh lei sta corrompendo il mondo Ma anche Aerobrine lo fa Sicuramente non è Cioè se stiamo dalla parte di lei Non è che stiamo dalla parte Di un angioletto L'unica cosa che cambia Che non sappiamo Come lo corrompe lei Esatto Perché Aerobrine L'abbiamo visto Un sacco di volte Come lo corrompe Quindi siamo più che altro curiosi Di vedere cosa farà lei Ma in realtà Attento Non ti avvicinare Sono tutti così Tutti che sono Fanno proprio schifo Meno male queste armature Di Dark Diamond Ci stanno salvando Sono molto buoni Che ci ha dato lei comunque Io ho visto qualcosa in spiaggia Di là Sembrano altri Corpi di animali Mi pare Ma quella lì È la stessa disposizione Del rituale Che abbiamo interrotto Però non ci sono i villager Di sicuro Io non ho fatto in tempo Vedere bene Giuro mi ricordo Sì l'altra volta C'era tutto un filario Piamme Questi si sono accesi Quando ci siamo avvicinati Non erano accesi poco fa No erano spenti Uno è spento Lo vedo spento Uno è ancora spento Sembra una roba da finire Volendo Sembrano delle mani Comunque Ricordatevi anche Che noi abbiamo Nell'inventario Tuttora I frammenti Della ominous bone staff Che è quella staffa Che noi ci portiamo Presso da un po' Quindi volendo Potremmo provare A assemblarla In teoria abbiamo tutti i pezzi Però una cosa alla volta Proviamo Prova Ok aspetta Ma non è che è lo stesso fuoco Che c'era nella cassa Io l'ho preso eh Potrebbe benissimo essere Era un fuoco Proviamo È effettivamente Ha senso Ti prego Sì Oddio funzionato Sì 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 Lai Ma sto ponte Non c'era sto ponte No Andiamo Andiamo Oh Che cavolo è A me sembrava Quello del silenzio Il mostro del rumore Ogni volta che noi Abbiamo un jumpscare È colpa di quel coso È di nuovo lì eh No quella è lei È lei È seduta Guardala È seduta nel ponte Madonna che inquietudine Comunque Ti sta chiamando tipo Cosa facciamo Ti sta invitando Ad attraversare il ponte Beh proviamoci Non attacchiamola Per carità di dio eh È assolutamente inquietante È un po' Non la toccare No assolutamente Però guarda ragazzi Non l'abbiamo mai potuta vedere Così da vicino Ed effettivamente Non è così brutta Aggressiva no Cioè No Tranne quando fa quella cosa Con la bocca Eh infatti Ti stai dimenticando Di quella forma La riesco pazza E' andata tipo sotto Dietro di vai Dietro di vai Dietro di vai Corri 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 Se ne sta andando Fermo Fermo Se ne sta andando Se ne sta andando No 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 Corri 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 Non vedo niente Non vedo niente Non vedo niente Non vedo niente Tappo il ponte Tappo il ponte Oh Che vuoi Lion Lion Eh Il carillon Di nuovo Non vedo più niente Mi ha detto che sono ancora in tempo C'è qualcosa che non va No 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 Non mi dire No no ma è peggio di così Ma lo sento anche io Ma non è che quel mostro Lo controllava Aerobren E ce lo sta sganciando contro Ragazzi Ci dobbiamo preparare A ricevere delle rappresaglie Abbiamo scelto Se ci vede lui Capisce subito Che stiamo dalla partita No Guarda eccolo di nuovo No Lion Sappiamo che questo mostro È una persona Che è stata Trasformata in un mostro Supponiamo Che a fare questa cosa Sia stata lei Supponiamo anche Che anche Aerobrine Sia stato trasformato In Aerobrine Da lei Da questa creatura Quindi se così fosse Questa ragazzina Avrebbe origini Con l'origine di Minecraft Perché Aerobrine È un mostro Antichissimo Dall'inizio dei tempi Di Minecraft Si parla di Aerobrine Lei è più vecchia Di Aerobrine Stai dicendo In questo caso vorrebbe dire questo Sembra strano da credere Ma se allora lei Ha corrotto addirittura Aerobrine Non ha senso che ci siamo schierati Dalla parte sua In teoria O no E beh È più potente di lui però Se lo ha creato C'è un altro libro Sempre parte del diario Suppongo di quello Che scrive del pallido Quel mostro Di poco fa Chi sono io Per mettere in dubbio I suoi ordini Queste persone Hanno bisogno Di essere ripulite Che vuol dire? Eh Che significa Queste persone Ma parla di noi? Secondo me no Parla di quelli Che sono diventati mostri Quindi tutte le creature Che le persone Magari tipo anche i villager Che si corrompono Cioè parla in generale Proviamo ad andare qua sotto Vedo delle tracce C'è della luce Più che altro Però Nel villaggio C'erano altre case Che ci siamo dimenticati Di vedere Beh secondo me Io l'ho vista Dentro non c'era nulla E fidati Andiamo avanti allora Attenzione sott'acqua C'è un sacco C'è un barco La Redstone Solitamente È una cosa Di Aerobrine Quindi Possibile Che sia un posto suo Questo C'è tanto sangue Lion C'è una specie Di rituale E C'è una scritta Scrivi il tuo nome Nel cartello Mi sembra estremamente Stupido da fare Perché non sappiamo Cosa fa Cosa comporta Uno non ci scrive Il suo nome Questo Non mi ricordo cos'era Questo qua Sono quelle blood charge Che è roba Che fa lei E serve a trasformare Le creature del mondo In quei mostri Tra cui abbiamo visto Prima quei villager Per esempio Qua c'è uno spazio Per appoggiare qualcosa Ovviamente C'è quella cosa Del sangue Tu dici Io pensavo alla daga Di Nightmare Anche Possibile Però non è concluso così Secondo me Dissimi anche il tuo nome È come se tu dovessi Selezionare il soggetto Non puoi farlo Ti prego non sappiamo Neanche cos'è Oh e se muori E se mi fa qualcosa Di brutto E se mi trasforma E se è qualcosa Di irreversibile Vabbè prendo il cartello Dai Bisogna provare Ma scrivi un altro nome Se scrivi un altro nome Non vediamo neanche Che effetto Eh infatti Non avrebbe senso Se dobbiamo provare Vuoi scrivere il tuo Eh io pensavo di sì Tu che dici Eh prova a scrivere il tuo Cioè io non lo so Sinceramente Spavetti ma le dice Proviamo Lion OGF Ho scritto Oh mio Dio Por Ma non si muove È uno Steve Ma sta roba è uscita da te Da me è vero Anche a me sembrava L'ho vista buono uscire da me Non è che puoi controllarla Ma che schifo è Allora non si muove È possibile che io possa controllarla È uscita da te È possibile che non abbiamo fatto La cosa giusta Magari con la daga Può essere che abbiamo sbagliato Serviva qualcosa di diverso Non ne ho idea Qualcosa è evocato però eh Sì qualcosa è successo E non ci sta attaccando eh È come se fosse una specie di homunculus Come una cosa generata da te Che tu controlli Eh ma io non so controllarla Forse perché è sbagliato Eh secondo me O ci vuole qualcosa Ho capito Ho capito Cosa? Per controllarli di solito Quando hai un evocato Per controllarlo Devi utilizzare una staffa Noi ce l'abbiamo la staffa Ma è a pezzi Quindi io non posso usarla Questa è una bestia mia È un golem di carne Praticamente E finché non facciamo una staffa Allora tu non puoi utilizzarlo Esattamente Spero di non aver sprecato l'evocazione Insomma la daga Non so La possiamo anche lasciare qui Così ci ricordiamo dov'è Il posto Forse è anche riprenderla E il rituale l'abbiamo visto come si fa Non è troppo complicato Eventualmente Boh Andiamo La daga me la sono tenuta Quindi volendo Cos'è stato? Oh mio dio Andiamo avanti Andiamo avanti Che è meglio Ma io andavo Risate Questa è lei eh Palesemente lei ci sta facendo delle offerte E noi ne stiamo godendo In qualche modo Perché stiamo accettando Aspetta Questo è uguale a quello di là Ma le lanterne sono diverse Non viola? Che è qualcosa altro? Di là erano azzurre Lo faccio sempre io La staffa ossea è una Quindi volendo Io ce l'ho io Se poi queste creature io posso davvero controllarle Come stiamo pensando Conviene che le abbia tutte io Provo anche qua Vai prova Metti il tuo nome Basta che non ti tolga qualcosa Che al momento non noti No Cuori in meno non ne ho Non c'è niente di diverso Lion VGF Fatto Guarda anche qua Oh signore Oh è diverso È diverso È diverso È diverso E fa più schifo Ma sembra ragno La lion è disgustoso Non so quanto siano forti ste creature eh Lei ride Ride sempre Io non so da dove Perché ci sta guardando Come fa a vederci Perché non c'è C'è presente che quando lei va via Va nei portali Non è che è tipo una dimensione parallela Che noi non vediamo Sotto terra va lei E apre un cerchio Magari lei ci vedi Potrebbe essere Andiamo avanti Riprendi la daga La daga Sì la daga la prendiamo Questa ce la portiamo appresso Perché Magari lei è tipo in una roba Come se fosse un nether O un altro end Proseguiamo Vediamo se c'è dell'altro Le creature sono solo quelle due Mi dispiace non avere la possibilità Di assemblare questa staffa al momento Però effettivamente Non saprei come fare E dobbiamo capire come fare In teoria su un libro che avevamo preso C'era scritto di spargerla con del sangue Sì Sì Però mi pare si parlasse anche di un altare Di qualcosa del genere E noi non Esatto Non ne abbiamo trovati finora C'è dell'altro Questi sono i cultisti suoi Ma c'è una tecratura dentro Allora no Anna Aspetta Perché non sono i cultisti suoi I cultisti della ragazzina Sono quelli con quella maschera Che io ho indossato Nello scorso episodio Che sono visti oggi E' vera ragione Questi mi sa che sono T'ho di ero Non può essere È possibile no Alex Questi si vedono dall'inizio Sì è possibile Vediamo se ci attaccano E sono impegnati a fare il rituale Però Aspetta L'ultima volta che ha interrotto qualcosa È andata male Sì Decisamente Però Se questa è roba di Erobrain Non vogliamo che lui possa controllare Queste creature Ma ha catturato esatto Un homunculus Che appartiene a lei Sì No 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 Lion Eh trastami Trastami è meglio Senti tanto ormai ci siamo schierati Lion però quando uccidi uno De quegli affari Le fiamme diventano nere Te lo giuro Aspetta Riprova Se vuoi ne ammazzano uno io Guarda È vero Per un attimo Lion non è che prende l'anima del cultista Potrei star fidando le fiamme Lion Oh C'è roba indietro Ello Ello No 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 Non è che l'hai finito L'ha saperto Lo immaginavo Lo immaginavo È pronto Però non la facca Perché ancora non è pronto per attaccare Eh ma non sappiamo chi è che lo controlla Ma non è tu anche questo No no Questo non è mio Questo non è mio No 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 Era bello forte Era bello forte questo Ci è voluto un bel po' di colpi per ammazzarlo Questo era l'Aerobrine L'Aerobrine era riuscito a prenderne il controllo Noi lo possiamo lasciare Comunque raga dopo questa siamo Alla luce del sole Lui sa che siamo contro di lui Proseguiamo Vediamo cos'altro riusciamo a trovare E magari dentro casa mettiamo anche il disco che abbiamo trovato prima Per ascoltare il messaggio Entriamo presto però Io non voglio rimanere qua fuori Eh tu devi dare fondo a tutte le tue conoscenze E ricordarti com'è Aerobrine da cattivo Perché qua ci dobbiamo difendere C'è là il videoregistratore Aspetta un attimo Allora aspetta perché questo è strano Potrebbe essere la base di uno di questi giocatori fantomatici Che prima di noi hanno bla 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 Allora questa te la do a te perché potrebbe servirci Qua c'è un cifrario Per interpretare parte del messaggio che abbiamo trovato prima Me lo ripassi Me lo ridò? Eccolo qua Perché così effettivamente ha senso eh ragazzi Allora Sappiamo che la B è una D E la M è una O Le lettere slittano di due Allora la B è una D Ma non vuol dire niente lo stesso Perché DM non vuol dire niente Magari in inglese La M Ah è vero È vero Do È vero Do Però le altre lettere Non ce la facciamo Devi spostare Devi spostare tutto di due Sembra perché c'è da B a D Da M a O Sono sempre due lettere avanti Non è detto Però si può capire eh Allora se la M è una O Quindi do you Do you E poi c'è un verbo Probabilmente Potrebbe essere tipo Do you believe Do you E secondo me l'ultima cosa è me Può essere Che finisca Eh può essere Ci sta Do you believe me Do you trust me Do you Want to fight me Qualcosa Non lo so Questo qui l'ha scritto Aerobrine no Sì sì Spensiamo di sì Quindi ti vuole dire qualcosa Senza che lei lo sappia Praticamente Non è detto che voglio ancora dircela Questo l'abbiamo trovato prima Di fargli vedere Che noi ormai siamo Dalla parte di media Qualunque cosa ci voleva dire Probabilmente non vale neanche più Comunque vale la pena saperlo Ragazzi Vi rinvito di nuovo Se potete di aiutarci A tradurre sto messaggio Mettiamo sto disco Vediamo se c'è qualcosa Di interessante dentro Va bene Revenge Revenge Ah questa è Si capisce benissimo Cosa diciamo È chiaro Revenge Vendetta Quindi mi pare di capire Che a questo punto Revenge Stia facendoci Una dichiarazione di guerra Anche lui No ci sta dicendo Che adesso Siamo nemici Un po' me ne pento Sicilamente Da nostra scelta No io no In ogni caso avremmo avuto Un nemico Cambiava solo chi Attenzione In un altro libro Si parla di una staffa Prende la sua staffa Si gira Mi guarda negli occhi Quando apro gli occhi Di nuovo Lui se ne è andato Ma posso sentire La sua presenza Quindi questa staffa Serve per possedere Le creature Palese Perciò è esattamente Ciò che ci serve Per controllare Quei creaturi Là fuori Il problema è Come diavolo L'assembliamo Sembra complicato T'ho posto Alex l'hai mai visto Alex l'hai mai visto No questo Non l'abbiamo mai visto Sembra un mausoleo Però non è Stile a Erobrine No potrebbe essere Che c'entra Con la staffa di ossa Magari è la casa Di qualcuno O un tempio Magari è il tempio Dove c'è l'altare Per riassiglare Sta dannata staffa O è da una vita Che la cerchiamo Qua se ne parla Potrebbe benissimo essere Proseguiamo ancora un po' Vediamo se c'è Qualcos'altro Che ci interessa Io dalla finestra qualcosa ho visto Dietro la casa Andiamo Ricordatevi ragazzi Di aiutarci con questo codice Se possibile sarebbe Sarebbe gran cosa E continuiamo ragazzi A sto punto Fermarci non ha senso Tanto ormai siamo in ballo Conviene continuare a ballare Questo mi ricordo Di aver già visto Un tempio Infatti Un villaggio del genere Un campeggio Erano blu però Io mi ricordo Le lane Lion c'è un problema C'è quello lì Che si spacca a metà E ti vuole divorare L'ho visto in mezzo agli alberi Ok Non è nelle caverne quello Facciamo finta di nulla Ci sono Un sacco di pezzi Di animali Mutati Di quelli lì Che abbiamo visto noi Questi Non mi paiono mutati Sì che lo sono Sì invece Che schifo Guarda quanto corrono Comunque Abbiamo visto Che ogni animale mutato Ha più di una mutazione Tra l'altro Esatto Anche perché prima Abbiamo visto dei maiali Che però avevano tipo Un gancio Che usciva dalla schiena Questi sono spaccati a metà E hanno una culeo Tra l'altro Che ti attaccano Che schifo Cioè questi meno male Che sono bloccati Perché a piede libero Diventerebbero delle creature Molto forti Molto pericolose Oddio Oddio Cos'è Che diavolo succede I fulmini Non roba di Erobrine Un fulmini è proprio qui Lion Sto cercando di sbrigarmi Se c'è qualcosa da prendere Purtroppo non mi pare Non penso Siamo pronti La sua vendetta vera Ti giuro Possiamo proseguire Io direi C'è dell'altro Vedi qualcos'altro In lontananza Dove Oltre gli alberi Tu non vedi niente Vedo qualche torcia Sì c'è qualcosa Allora questo è interessante Direi che Cos'è Non è quello di prima Perché quello che abbiamo visto prima Era un tempio tutto nero e bianco Questo è rosso Quindi è diverso Però vale sicuramente la pena Potrebbe essere anche questo Il posto che stiamo cercando Per assemblare la staffa Direi però che è un ottimo momento Per fermarci Qua davanti Facci sapere ragazzi Un suggerimento sul messaggio Che abbiamo tra le mani Tra l'altro ve lo posso far leggere Anche di nuovo Abbiamo capito Che la prima parola è Do You Eh Mi Do you Mi Qual è la parola che manca Per oggi ci fermiamo E Lion Out Ciao No Grazie a tutti.